Perché chi parte saprà che cosa fugge, ma non sa che cosa trova. No. Prendi qui. Qui si può a te tu. Tutto lo che mi fa male, tatarali, tatarala, me puse a cantare, tatarali, tatarala, tutto lo che mi fa male, vida non mi trates male, sempre ti quise igual, te voy a dar. Ciao ragazzi. A Levanto è andata bene, è stata una bomba e adesso vi farò vedere tutti gli altri. C'è la batteria scarica come al solito e la strada verso la luce. E' lunga, speriamo che non sia tortuosa. E devo concederci un'intervista? Ecco. A me tagliamWh Non, perché non c'è tempo, non c'è tempo sicgalo C'è tempo sic sneezeri. A me tagliam E non adesso evitare dellamenza Marina di Grosseto, ci siamo trasformate in uomini primitivi. Chi era dal Gis a Passamilaclava? Vilma! Adal Gis per attacca la musica. Oh mio Dio! Scusami, qual'è il tuo nome? Scusami, dove siamo? Mi sono da Marocco. Io vivi in esa guerra. Io vengo da Marocco. Io vivi in esa guerra. C'è anche scaduto il bigliettino del parcometro. Anche io, quando sei nata? Io a settembre. Ah, ok. Quanti anni hai? Io 32. No, davvero io? Perché anche lui, no? Sono così vecchie. Non metti i trecchi. Così. Eh, possiamo salutarci qua. Quanti anni hai? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti